Dove dovesse essere necessario ritengo sia verosimile che verrà effettuata anche da parte della famiglia, mio tramite, la nomina di un consulente per la ricostruzione della dinamica del sinistro, quindi una ricostruzione cinetica di modo che possiamo avere un quadro completo di tutta la vicenda, dall'inizio fino alla fine, per capire di chi è la responsabilità se c'è una responsabilità per la morte di Antonio. Il padre ovviamente ha usato queste parole forti poiché sicuramente ci sono stati dei ritardi in alcune operazioni, tuttavia allo stato attuale rimangono delle ipotesi, noi dobbiamo ovviamente vagliare con i nostri consulenti tutto quello che è accaduto. Per mia formazione professionale non sono abituato a ipotesi accusatorie prima di aver visto gli atti, cosa che attualmente non ho ancora fatto. Assicurare i genitori, il papà in modo particolare che sta facendo giustamente una battaglia di verità, voglio assicurare, la battaglia di verità la voglio pure io, tant'è che ho disposto una indagine ispettiva interna, stamattina il servizio ispettivo con dei dirigenti procederanno già ai primi interrogatori di tutto il personale, medico, paramedico, tutti coloro che hanno avuto in qualche modo un collegamento diretto o indiretto con la vicenda. D'altra parte occorre però fare anche qualcosa in più e io la sto facendo, nel senso che stamattina acquisirò una prima relazione fatta dalla direzione sanitaria che sarà sicuramente una relazione sommaria, ma è mia intenzione prendere questa relazione, le dichiarazioni che ha fatto il dottor Pietro Luongo, direttore del pronto soccorso che ha segnalato la vicenda e ulteriori atti che io sono in possesso e di portarli in procura, perché il primo che vuole chiarezza non sono solo i cittadini, non è solo la famiglia, è la ASL, sono io e sicuramente una volta che saranno accertate delle responsabilità ci sarà sicuramente il licenziamento, ma io poi mi auguro che ci sia pure una presa di posizione forte anche della magistratura, perché queste cose guardate non possono verificarsi in un ospedale, cioè è assurdo che in un ospedale dove si viene per curarsi eccetera si debba poi assistere a queste tragedie e poi tragedie che probabilmente potevano essere tranquillamente evitate, probabilmente, vedremo l'esito di queste inchieste, voi sapete che c'è anche una terza inchiesta, quella del Ministero della Salute, di Lorenzin, che arriveranno gli ispettori, quindi ci saranno tre inchieste, tutte e tre che sono autonome l'una dall'altra, ma che tutte e tre sicuramente porteranno alla verità.